Ancora freddo e piogge oggi sul centro-sud Italia, mentre giovedì il maltempo si sposterà decisamente più a sud, facendo arrivare un po' di primavera sul resto del paese. Ma venerdì arriverà una nuova perturbazione atlantica sul centro-nord Italia. Ma nella giornata odierna sono proseguiti gli interventi degli uomini e dei mezzi della provincia di Pesero-Urbino sulle strade di competenza dell'ente per fronteggiare l'emergenza maltempo anche con l'ausilio di ditte incaricate. Nel Pesarese ancora presente sulla strada provinciale 57 Monte Gaudio uno smottamento di monte che ostruisce un quarto della carreggiata. Buche diffuse su tutto poi il territorio. Inoltre per la formazione di voragini a causa di movimenti franosi è stato temporaneamente chiuso al traffico questo pomeriggio dalla provincia di Pesero-Urbino il tratto della strada provinciale 128 Monte Grimano-San Marino nel centro abitato di Monte Grimano-Termen nel tratto adiacente al parco comunale. Nel Fanese sulla strada provinciale 92 Cerbare è stato riaperto il ponte che attraversa il fiume Metauro che era stato chiuso lunedì in via precauzionale per il pericolo di esondazione del fiume stesso. Questo ponte era stato già oggetto di attenzione lo scorso anno c'è stata una pulizia sotto eccetera c'è stata anche una precauzione nel tonnellaggio di attraversamento e nel limite di velocità quindi strutturalmente qualche problema diciamo ce l'ha ce lo ha. Con la piena di ieri prudenzialmente la provincia ha pensato bene di chiuderlo secondo me ha fatto bene perché effettivamente ieri era una piena incredibile in questo punto. C'è un'altra situazione un po' nel suo comune un po' critica che le desta preoccupazione? Ma è quella del ponte di Calcinelli anche in questo caso cioè il ponte di Calcinelli non è strutturalmente in pericolo però è quasi completamente ostruito da tronchi. Qui il problema è un altro, qui sarà il caso che si cominci a mettere mano alla pulizia dei fiumi perché qui io capisco la salvaguarda dell'ambiente che sta a cuore a tutti ma non è possibile che dentro i nostri fiumi ormai non si riesca più neanche a fare una passeggiata piedi da quante alberi rovi altra roba c'è nel centro di dove invece storicamente dovrebbe correre semplicemente l'acqua. Chiusa la strada provinciale 83 Morola nel comune di Cartoceto per cedimento della strada stessa sulla strada provinciale 45 Carignano inoltre sversamenti di fango e detriti provenienti da strade e passi a monte della provinciale. Nel Fanese sulla stessa strada si è riattivata una frana al chilometro 6 della Scarpata di Monte. Inoltre sulla strada provinciale 16 Bis Orceanese riattivazione di un cedimento al chilometro 5500 per ora segnalato con una riduzione di velocità a 30 km orari.